ebbene eccomi qua amici sono riuscito finalmente a terminare la plugin per final cut che ho chiamato cineflow e vado subito a mostrarvela e questa qui è una versione title effect come adjustment layer ma sarà disponibile in una versione effect in modo appunto poi da salvare i vari preset ok vediamo subito quali sono le funzioni di cineflow qui troviamo subito e la possibilità di caricare tre latte addirittura poterle poi miscelare tra di loro attivarle o disattivarle e c'è anche la possibilità di avere dei fin bars di usarle addirittura anche come animazione finale per chiudere qui c'è la possibilità di rendere trasparente per capire che cosa si sta lasciando fuori possibilità di correggere veramente con due mosse un file log questo qui si tratta di un algoritmo che fa parte di final cut ma non è presente ed è veramente molto molto potente anche levels fa parte di final cut ma non è presente in final cut sono degli algoritmi veramente molto molto validi poi li vediamo nel dettaglio vado a mostrarvi subito come è possibile correggere un file log semplicemente utilizzando questo strumento contrasta vado un attimino nell'istogramma ingrandisco meglio l'istogramma eccolo qua appunto è possibile notare come si stira l'onda nell'istogramma e il pivot opportunamente modificato non fa altro che portare nel centro tutta l'esposizione in modo da poter centrare appunto l'esposizione a seconda di come si interviene con contrasta direi che più o meno ci siamo questo riferimento grigio medio è perfettamente nel centro e vado a saturare l'immagine forse ci viene in soccorso il vectroscopio per vedere la saturazione ok appunto il vectroscopio ci fa capire la saturazione io ho questo riferimento qui che va a sovraesporsi se aumento troppo la saturazione direi che così è perfetto e ho corretto un file log in modo facile e veloce poi ho anche la possibilità vado un attimino torno indietro di poterlo fare attraverso i levels perciò vado a tirare giù i neri vado ad aumentare i bianchi posso intervenire nella gamma per spostare l'esposizione come abbiamo visto in precedenza qui c'è anche la possibilità lo vedremo più avanti di desaturare la parte dei neri questo ci torna utile se gli diamo una lat o utilizziamo questi effetti che vedremo più avanti per desaturare la parte dei neri perché molto spesso molte lat vanno a colorare anche i neri cosa che a me da veramente fastidio andiamo avanti così ecco appunto la saturazione nel gioco qui possiamo vedere questi picchi nel waveform sostanzialmente ci sta dicendo che l'immagine è sotto esposta e posso andare ancora un po più avanti perché non sono altro che queste parti qui di bianco che io ne leggo ancora i dettagli perciò significa che posso aumentare l'esposizione e caricare un po di più i neri volendo insomma questo per quanto riguarda appunto la correzione di un file log nella versione effect appunto sarà possibile salvarsi il preset e riutilizzarlo in seguito chiaramente se abbiamo caricato una lat che è un po scura possiamo sempre intervenire con questi parametri qui o fare esattamente anche la cosa opposta e vado a disattivare un po tutto e vado a rendere flat un'immagine a colori e se voglio appunto fare un match con altre clip proveniente addirittura da altre camere va bene andiamo avanti qui l'abbiamo visto e qui c'è anche la possibilità di attivare disattivare un film grain adesso non si vede bene però insomma è molto molto gradevole si tratta di un file prodotto da me con una grana veramente bella che non ha l'effetto loop come alcune plugin o addirittura il film grain di final cut stesso che non fa altro che miscelare tra di loro quattro fotogrammi e se ci fate caso nella parte centrale qui questo effetto di final cut che mette a disposizione ha un punto centrale la tramatura in realtà crea appunto non si nota ma un occhio esperto si vede un effetto loop perché appunto mix a quattro fotogrammi con un po di disturbo ebbene andiamo avanti troviamo anche la possibilità di inserire una fumettatura per rendere un po più cinematografico all'effetto è una parentesi e l'effetto film grain è utile anche per togliere l'effetto moire e soprattutto l'immagine dei droni dove ci sono vetti delle griglie o dei vestiti insomma va un po a spezzare pezza anche l'effetto banding nel cielo quando magari abbiamo perso le informazioni poi il film grain un po ne riduce l'effetto vado avanti qui ho la possibilità di saturare o desaturare la porzione del viso infatti si vede bene anche le labbra che è un altro colore come sono perfettamente isolate ok questo perché molto spesso tornando discorso delle latte chi produce latte o esagera oppure esporta la latte con la correzione dell'esposizione che poi qui chiaramente è possibile anche recuperare in parte l'esposizione ma se una latte che ci piace è molto aggressiva il risultato non sarà proprio eccellente anche se in realtà qui possiamo intervenire con il recovery black oppure anche i fade posso aprire così un po questo effetto un po scialbo che a me piace ma ormai è passato di moda comunque è possibile farlo un'altra cosa interessante pure e vado a prendervi un'immagine un po più ad hoc questo vestito è completamente sovraesposto con il recupero delle alte luci highlight è possibile recuperare un po i bianchi ok dove andiamo al sodo ho realizzato 10 quello che chiamo emulsioni o grading e gli ho dato i nomi delle pellicole cinematografiche più famose e vabbè il ford non è una pellico cinematografica ma piaceva l'idea piace molto questa cosa diciamo dell'emulsione perché mi ricorda quando lavoravo in un laboratorio di sviluppo e stampa e appunto ogni pellicola aveva la sua emulsione vi faccio vedere velocemente che cosa fanno posso anche mixare tra di loro per ottenere risultati diversi di color e faccio vedere velocemente la mia preferita e vabbè sicuramente la prima la kodak x800 e la kodak tri 82 22 anche questa qui è molto bella mi piace chiaramente questa è un'immagine sovraesposta si dovrà intervenire su ogni singola clip laddove si utilizza un adjustment layer come title effect chiaramente un consiglio questo vale un po sempre quando si deve cominciare un prodotto un lavoro e si vuole utilizzare una lat e una buona cosa sarebbe di creare una timeline con una decina una quindicina di clip applicare la lat a una adjustment layer stenderlo per tutta la durata e vedere l'effetto che fa su quante clip possibili in modo da poter decidere il grading a seconda di come ci gira sostanzialmente appunto cd flow è anche comodo per questo perciò sarà disponibile in due versioni come adjustment layer come title effect oppure come effect ma in questa versione appunto posso testare la sua efficacia sulla maggior parte delle clip vado avanti un'altra cosa carina ho inserito altri due strumenti di analisi uno è il color picker che non fa altro che mascherare in modo veloce la clip senza dover utilizzare draw mask credo che si chiami così non mi ricordo lo vediamo subito in azione compare un cerchio che posso spostare o ingrandire insomma e analizzare appunto la porzione di ci interessa vi faccio vedere direttamente dentro il vectorscopio ok qui posso vedere che è leggermente va sul verde giallo ok si sposta leggermente sul giallo posso trascinare il mio color picker nella porzione d'immagine da analizzare questo color picker aiuta anche nel comprendere meglio il waveform in alto a sinistra per vedere dove sto lavorando è possibile anche abbassare l'opacità compare una specie di dito medio per capire appunto quale parte di immagini sto lavorando destra sinistra sopra e sotto bene poi questo è il color picker che ritengo veramente utile perché ero stanco sempre di stare lì a scontornare l'immagine insomma mi fa perdere molto tempo con questo strumento qui posso controllare verificare le dominanti in un modo veramente rapido poi un altro strumento sempre molto valido è quello appunto di comparare le color qui ho messo un before after a destra abbiamo l'immagine con la color a sinistra l'immagine originale senza color per vedere di quanto mi sono spinto c'è la possibilità anche di ingrandirlo per vedere nel dettaglio chiaramente ingrandisce la parte centrale dell'immagine poi questo before after analyze vectorscopio waveform e non fa altro che mettere i fotogrammi uno sull'altro per poter appunto andare a vedere come è fatta e quali sono le parti di nella waveform ma non è finita qui ho la possibilità addirittura di comparare fotogramma di una clip precedente per verificare eventualmente vari dominanti o meno questa è la parte forse più interessante perché appunto dicevo va a sovrapporre i due fotogrammi e che posso chiaramente leggerli dentro il waveform vi faccio un esempio più concreto di come poter sfruttare il compariscio mode vectorscopio waveform un'immagine di riferimento vado a caricare il fotogramma di riferimento e ha già la sua bella color e qui nel waveform ok mettiamo magari rgb parade meglio ok poi vado chiaramente nella clip da correggere e vi faccio vedere un attimino come è possibile matchare le due immagini chiaramente hanno le stesse caratteristiche perciò matcharle è più facile per me adesso vado a saturare qui ci vuole il vector scopio vado a saturare e anche il vector scopio è sovrapposto uno sull'altro posso matchare appunto in modo preciso le clip questa è la funzionalità di appunto compariscio mode all'interno di cine flow perciò sono strumenti molto utili e questo è quanto insomma faccio un veloce riepilogo le emulsioni potete appunto come ho detto prima miscelare tra di voi tra di loro ok così ognuno presenta appunto delle caratteristiche diverse sono stato attento a non tirar fuori artefatti ciò non ho utilizzato le luminanze così le immagini sono sempre nitide e non presentano banding ok bene questo è tutto adesso mi metto subito al lavoro per la distribuzione grazie per l'attenzione a presto